buongiorno amici di panorama italy rieccoci in diretta amici questa mattina dalla bellissimo dal bellissimo paese di terrasini ragazzi siamo in dire siamo in questo momento a villammare scendiamo in direzione praiola ragazzi andiamo a vedere il mare lì sotto e poi facciamo una bella passeggiatina anche in centro storico seguitemi terrasini ragazzi paese in provincia di palermo a circa 35 chilometri mi raccomando anche quest'estate venitela a visitare salutiamo subito ignazio granata c'è ignazio buongiorno ma tutti gli amici si stanno collegando andiamo da quella parte parte siamo accompagnati da giovanni che già sta facendo qualche scatto più sopra salutiamo a tutti voi ragazzi mi raccomando di condividere la diretta di darci una mano come sempre grazie 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 so che a francesco saccomanno ciò francesco ciao salutiamo subito la nostra giusy de gregorio ciò giusi eccoci giusi finalmente scocci tornate a terrasini ragazzi siamo a due passi anche dall'aeroporto puntaraisi quindi se ci dovessero essere degli aggiornamenti per quanto riguarda già yaman andremo direttamente all'aeroporto che si trova praticamente vicinissimo sotto anche a pietro busalacchi lidia vaccaro e meris calia un saluto ciao ragazzi c'è elisabetta c'è vincenzo siamo già 100 ragazzi terrasini live sotto anche il mio amico giuseppe titone ciao giuseppe spettacolo ragazzi meta di tantissimi turisti tutto l'anno ragazzi ovviamente di più nel periodo estivo terrasini veramente fiore all'occhiello del turismo siciliano vi raccomando vi aspettiamo in tanti quest'estate anche a terrasini come già detto prima ragazzi ci troviamo a due passi dal da anche dall'aeroporto e ovviamente anche dalla città di palermo saluto a maria da grazia lo iacono salutiamo la mia amica daniela mazzola la nostra giusi de gregorio vamos giusi sì sì ovviamente sì saluto anche a parrino jeffrey ciao parrino andiamo a vedere il mare alla praiola ragazzi seguitemi ovviamente saluto anche il mio amico antonino maniaci del panificio saluto la mia amica tina le fonte salvatore vitale ciao salvo buongiorno ragazzi per tutti gli amici di già yaman ovviamente siamo anche vicinissimi all'aeroporto quindi se dovesse arrivare gianna momenti noi siamo pronti ad andare saluto anche annamare adriana di lorenzo ciao saluto anche la amica rosia amico sabella da new york com'è il tempo a new york ragazzi qui ragazzi fortunatamente devo dire che la temperatura intorno ai 14 gradi si sta benissimo salutiamo anche loredana mira alessia guerra buongiorno stamattina siamo accompagnati anche da giovanni che sta facendo qualche scatto più in là poi lo recuperiamo saluto anche a vania santos bom dia saluto a meri scalia buongiorno guarda che male ragazzi stamattina credo che sarà fantastico ci saluta anche a valeria da catania insomma ragazzi in questo momento situazione abbastanza tranquilla qui a terrasini vedete c'è poca gente ovviamente siamo quasi in orario pranzo ovviamente mandiamo un saluto anche a entoni che forse sta lavorando saluto anche ignazio ovviamente parrino già l'abbiamo salutato e saluto anche a pedro guarda che spettacolo ragazzi praiola saluto ma la mia amica concetta il mio amico christophe christophe qui ci dovete venire ragazzi si si giù si dovrebbero scendere tra oggi e domani ragazzi quindi può darsi pure che arriva più tardi noi siamo pronti ad andare all'aeroporto chris qua ci devi venire che compà guarda che spettacoli faraglioni di terrasini ragazzi la praiola posto magico del nostro territorio vi raccomando ragazzi di condividere tutti la diretta lì sotto c'è anche chi prende il sole ragazzi guardate adesso ci spostiamo un po ragazzi in direzione maiduzza da quella parte e poi risaliamo a venire a vedere anche il centro storico il duomo e la fontana magica saluto ma stefania castronova alisa coniglio saluti ciao lino lupo salutiamo anche ad antoni carlo dalla germania sentiamo anche osclusciro mare pari spettacoli ragazzi dai giusi che quest'anno mi sa che l'estate inizia prima giusi guarda qui la scritta love terrasini anche santina buscemi e vito leone un saluto ragazzi mare da favola guardate che sole che c'è giornata caldissima 14 15 gradi chris ci troviamo a due passi dall'aeroporto punta rai ragazzi quindi appena arrivato a palermo ragazzi prima uscita terrasini direzione trapani praticamente siamo vicinissimi anche al bellissimo paese di cinisi salutiamo vanessa mariscalco e barbara cassata e anche a due passi ovviamente la villa grazia di carini dove appunto c'è anche l'aeroporto sono anche vito cancelliere che ci saluta dalla val d'elsa il mio amico roberto faggiani che ci saluta da roma ciao robbie vamos robbie condividete ragazzi share 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 dateci una mano con le condivisioni ci affacciamo un secondo da qui ragazzi saluto al mio amico franco genusa saluto amica maria arcala ciao maria guarda che spettacolo ragazzi faccio vedere anche da questa parte saluto anche la concetta è arrivato gianne no mariella noi siamo qui ragazzi in zona aeroporto comunque terrasini si trova vicini all'aeroporto quindi si arriva facciamo in modo di essere subito lì saluto al nostro mimmo tinaia che oggi è a casa però ci vediamo ci rivedremo stasera con mimmo quindi dice giusiscini dice parrino ovviamente si ragazzi guardate che mare guardate i faraglioni da quella parte salutiamo anche il mio amico stefano caruso e aldo nobile ringraziamo a tutti gli amici che ci stanno sostenendo vi raccomando ragazzi condividete tutti promuoviamo ragazzi ciao dusminu ragazzi vi raccomando promuoviamo oggi il bellissimo paese di terrasini saluto anche a witty wilson e giusi orlando a new york 10 gradi e fa freddo dice a rosi da quella parte appunto vedete tutta la zona di cinisi siamo a due passi anche dall'aeroporto adesso lo faccio da quel lato ci spostiamo un secondo anche in direzione ragazzi alla si davide da quella parte c'è anche il porticciolo ragazzi però da guardato non ci possiamo andare in questa zona qui non ci possiamo andare perché c'è poca connessione intanto giovanni sta facendo qualche foto da questa parte c'è villa mare andiamo in direzione palazzo da omale ragazzi saluto anche maria rosa valenti al mio amico chris questo posto magico chris guarda che spettacolo siamo alla praiola di terrasini in questo momento saluto mare grazie allo cicero nancy robosco e davide spettacolo ragazzi paradiso sicilia saluto anche la mia amica sandra william se c'è sandra ho voglia di fare un tuffo ragazzi di qui il mare è fantastico in estate potete immaginare quanti turisti non si trova neanche è un un sassolino libero oggi arriva canne joe gian e robbie noi siamo qui ragazzi a terrasina due passi dall'aeroporto quindi se dovesse arrivare siamo sempre in prima linea andiamo subito all'aeroporto di stasera solamente dieci minuti dice scine fra poco giusi parrino saltiamo a anthony buongiorno fratello saltiamo a chris in belgio fa grigio freddo e piove e si lo so lo so chris il nord europa per ora è così sotto la mia amica tinale font saltiamo anche delfino che forse poi rivedrà il video dopo saltiamo a fatti guarda il spettacolo ragazzi macchina veniterranea che cresce spontanea saluti a tutti gli amici che si stanno collegando vi raccomando ragazzi condividete se avete dei gruppi su terrasini condividete anche lì ovviamente salutiamo tutti gli amici di terrasini saluto il mio amico antonino ovviamente salutiamo anche alla mia amica giuside gregorio saluto anche vera caracciolo ciovere franco marasco siamo in zona faraioni adesso prego robbie noi siamo in prima linea ragazzi potrebbe arrivare come potrebbe arrivare fra mezz'ora ragazzi può arrivare anche domani comunque non c'è molta statistic in questo io forse ci vedo sabato ornensi un posto fantastico ovviamente con con le belle giornate ancora più bello qua c'è palazzo da omare dove all'interno fanno tantissimi bei spettacoli ed eventi sono anche giocherine formose salvo guliti quindi ragazzi niente facciamo una passata qui in zona appunto faraioni dopodiché saliamo in direzione del centro storico vi faccio vedere il duomo e vi faccio vedere anche la lo spettacolare la foto spettacolare fontana magico salutiamo a sandra williams e ciao sandra good morning spettacolo marina sandra sarebbe anche giuseppe d'amico non ho parole per questo mare c'è gente che vale maldiva andate in sicilia bravo frate abbiamo anche lucrezia mendola e antonio palmeri guardate che male ragazzi mi raccomando ragazzi di condividere la diretta se avete gruppi sulla sicilia vi aspettiamo in tanti cini e gianni penso che manca pochissimo ragazzi potrebbe arrivare anche fra un'ora noi siamo pronti grazie livio saldiamo il mio amico livio bertucci che ci fa i complimenti da ravenna il mio amico marco tinaia ciao marco andiamo da quella parte ragazzi andiamo a vedere un po da quella parte grazie stefano grazie winni saldiamo tutti gli amici dall'estero che ci stanno seguendo faraioni live siamo sui faraioni di terrasinia facciamoci un secondo da qui ragazzi saldiamo anche amici della romania cioè elena c'è andrea forza misilmeri ragazzi facciamo vedere anche da qui su ragazzi guardate che spettacolo grazie stefano saldiamo anche tiziana spina ciò tizzi e monica giazzi grazie jaclyn saldiamo gli amici di malta paradiso marina sandra condividete amici vi raccomando saldiamo anche silvano e manuela gennari e lucrezia mendola lucrezia mendola c'è lucrezia spero che ragazzi che la qualità audio video sia buona zulmira ci saluta dal portogallo essi parrino guarda da qui ragazzi si vede anche uno scorcio guardate sulla bellissima magaggiari quindi tutta la zona di cinisi ragazzi prende a due passi dall'aeroporto che si trova alle spalle ringraziamo intanto sandra che invia 50 stelle grazie sandra salutiamo ignazio brunetti oltre il mare la sicilia tantissime città bellissime come palermo catania siracusa grigento assolutamente sì piero grande ci spostiamo un po da quella parte ragazzi faccio vedere anche da quel lato e poi giovanni fa un saluto in diretta giovi ti saluto un sacco di amici giovanni sta facendo qualche scatto buongiorno saluto anche a paolo milana e a patti patrizia andiamo un po da quella parte ragazzi ne vedo un po situazione da quel lato paradiso frate paradiso scendiamo da qui ragazzi saliamo in direzione faccio vedere un po da quella parte parrino la casa qua la dovevi prendere saliamo a parrino grazie grazie amico mio parrino chissà e mare andiamo andiamo vanus no mimmo già a casa chetano e poi ci vediamo stasera con mimmo raga saluto anche a me compa di ignazio buongiorno compa per caso c'è gianni no ragazzi arriverà come detto potrebbe arrivare fra un'ora fra due ore noi siamo qui vicino l'aeroporto a terrasini quindi si arriva siamo subito lì compa guarda che mare stamattina compa guarda che spettacolo saluto anche a gioscalia da brisbane siamo fortunati a vivere in questa terra magica assolutamente sì piero la mosse da quella parte c'è la fontana col cuore spezzato saluto anche domenico da louvrier e barber schneider guarda che spettacolo ragazzi guarda che mare qui farà ioni spero in estate verrò lì ragazzi vi raccomando vi aspettiamo in tanti grazie silvana per le condivisioni grazie a tutti gli amici che stanno condividendo saluto anche vito cancelliere ciò vito paradiso sicilia ragazzi terrasino ovviamente conosciutissimo dai turisti però molti non lo conoscono ragazzi per noi è un piacere essere qui saluto anche silvana emanuela gennari grazie quindi iniziano le riprese si ragazzi iniziando da giorno 12 a giorno 21 saluto alla mia amica antonella di fiore ciao anto grazie per la condivisione siamo a due passi all'aeroporto anto quasi si arriva a gianne siamo subito lì qui tra l'altro dovrebbero fare delle riprese almeno per tre giorni siamo qui anche per alcune informazioni che ci devono dare alcuni amici di terrasini quindi vediamo qualcosina dopo saluto marco carollo e caterina bonomo affacciamoci da qui ragazzi saluto anche anello bruno i miei carabbi sono in sicilia brava brava nancy saluto anche maria davide ferraro saluti e anna penna da melbourne un sacco di amici dall'estero grazie stavate tantissimi qui intanto c'è un monumento qui sui tenta ci sono le bandiere delle dei stati uniti della della dell'italia e della e della sicilia però in questo momento l'hanno tolte perché è vero ignazio anche lì oggi c'è un mare fantastico ci vediamo a vergine maria grande chris ti aspetto quest'estate paradiso tiziana paradiso marina come dice la mia amica sandra ragazzi vi raccomando giovanni intanto sta facendo qualche bello scatto mimo dice jeffrey scendi ormai manca poco vento lo portiamo anche qui a parrino siamo a due passi all'aeroporto ragazzi l'aeroporto esattamente si trova in linea d'aria dietro questo monte qua questo piccola elevatura saluto a salvatore trapani e riccardo riccobono ballestate anche bellissima si lucrezia anche ballestate bellissima ancora ballestate non ci siamo andati però in diretta quindi un motivo in più per andare presto ci vediamo anche da questa parte c'è una panomica da qui salutiamo mimo guarda che spettacolo ragazzi da qui si vede tutta la praiola tutto il paese di terrasini guardate può essere che resta qua gian ragazzi se vede questi posti ragazzi resta qui no saluto anche graziella daviccio graziella e sonia carreira salutiamo anche silvia sciarratta e barber sneider ciao barbel salvo anche salvo barbaro allora ragazzi andiamo un secondo da quella parte in zona maiduzza e poi risaliamo in direzione del duomo vi raccomando nel frattempo condividete ragazzi dateci una mano salutiamo tutti gli amici di terrasini che si stanno collegando c'è anche il mio amico antonino maniaci che al panificio poi può essere ci passo dopo perché questo centro sta lavorando salutiamo anche debolo alvarez andiamo da quella parte ragazzi perciò vedere zona maiduzza anche lì spettacolo mare fantastico e anche la riserva dello zingro ovviamente è bellissima nello dice finito il covid torna a palermo vi aspettiamo faraioni traiola spettacolare da quella parte fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate nei commenti scrivetemi scrivetemi qualcosa ragazzi se si vede bene se ci sono problemi di linea se per voi parlo troppo forte intanto sta arrivando un aereo ragazzi può essere pure che c'è gianno no guardate che spettacolo guardiamo questo atterraggio dell'aereo saldiamo anche a roberto bossoletti e jenny jenny guardate ragazzi sta arrivando un aereo direzione punta rice come dicevo potrebbe essere anche quello di gianno ragazzi perché no saldiamo anche a fabbom anna c'è gianno su gianno ciao guardate ragazzi zoom vamos guardate siamo a due passi all'aeroporto guardate come atterra gianno se lo porta a casa giusi ragazzi saldiamo anche elga foiardo ciao elga guardate come atterra raga guardiamo questo atterraggio frata saldiamo anthony grazie che danno per la condivisione saldiamo anche roberto bossoletti guardate che spettacolo ragazzi guardate come atterra share 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 condividete tutti vediamo un atterraggio ragazzi potrebbe esserci anche già yaman o qualcuno della troupe guardate spettacolo dove si trova l'aeroporto così faccio vedere qui ragazzi c'è l'aereo fatemi vedere se si vede bene fatemi sapere guardate guardate l'atterraggio saldiamo anche sabbia de rosalia guardate guardate ragazzi come atterra appunta rice come detto siamo vicinissimi se arriva gianno ragazzi siamo in prima linea saldiamo anche assuntina pelusa e viola izzo ciao guardate terraggio appunta rice direttamente siamo a due passi dall'aeroporto come avevo già detto atterrati ragazzi potrebbe esserci anche gian noi siamo qui spettacolo è entrato è entrato ragazzi è entrato salvo penso che l'avete visto ragazzi un atterraggio in diretta e c'era 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 chris forse vamos andiamo a vedere la zona della maiduzza ragazzi andiamo anche roberta bossoletti e giovanni bono andiamo a vedere la zona della della maiduzza da quel lato dopodiché andiamo in direzione duomo saldiamo anche patti e loretano nonis ragazzi ovviamente stiamo monitorando la situazione al conto riguardo a già yaman quindi anche se siamo in diretta sappiamo più o meno quando dovrebbe arrivare quindi se arriva a breve ci andiamo saldiamo anche lucia scuccia lucia e carmelo maretta andiamo a vedere un po da quella parte ragazzi faccio vedere un'altra delle zone fantastiche di terrasini ovviamente c'è anche cala rossa ci sono tantissimi altri posti però sono un po' dislocati diciamo dal centro storico sono anche per puccia rai e rosario apririno c'è rosaria da lipari grazie tina amica mia guarda che male qui sotto raga quando venite qua in sicilia ragazzi a farvi un bel bagno guardate adesso andiamo anche in zona maiduzza andiamo a vedere la situazione da quel lato guardate che male ragazzi anthony che mi dici l'america sandra dice paradiso marina si meri arriverà ragazzi a breve qui intanto c'è un piccolo pino però non abbiamo nulla stamattina forse no però non c'è il collare quindi forse di una signora saldiamo anche soldano gina e piero atterraggio più affascinante dell'europa sembra che a terra a mare è vero ragazzi esattamente piero andiamo da quella parte ragazzi faccio vedere uno scorcio meraviglioso da quel lato e intanto ne sta arrivando un altro aereo ragazzi quindi diciamo arrivano ieri stanno uscindendo ragazzi guardate qui c'è un altro adesso magari facciamo un piccolo zoom ci avviciniamo un po' saluto anche a stefano e antonio rianna saluti ragazzi vi raccomando con le condivisioni condividete tutti guardate qui ne sta arrivando un altro e insomma ragazzi arrivano un sacco di spero anche di turisti guardate saluti anche a maria angela ciao maria angela e daniele miliccia e luigi aloisi adesso magari facciamo un zoom più da lì insomma ragazzi quindi terrasini come stiamo facendo vedere anche dalla diretta e abbiamo un sacco di siamo vicini all'aeroporto quindi veramente se vi trovate a passare fermatevi ragazzi guardate che spettacolo questo è il ryan air c'è il ryan air che sta atterrando appunto a raisi chissà da dove arriva ragazzi chissà quanti turisti può essere che c'è parrino jeffio può essere centoni ragazzi o c'è gian non lo sappiamo guarda parrino come a terra là c'è giovanni che fa uno scatto guardate come a terra va bene giusi anche il tuo veniamo a riprendere assolutamente sì salutiamo anche magda boss e giuseppe lentini saluti colori del cielo sono fantastici stamattina non c'è neanche una nuvola ragazzi guardate è uno spettacolo saluta il mio amico rosario rizzo ciorro guardate che spettacolo anche i gabbiani insomma andiamo da quella parte andiamo a vedere la zona della maiduzza l'indo you guard thank you savania grazias silvano 18 torna d'agosto grande annuccia da melbourne facciamo un secondo da questa parte ragazzi ciao magda ringraziamo tutti gli amici che verranno ovviamente a terrasini vi raccomando ragazzi di condividere la diretta entri sull'aeroporto gianne può darsi si scendiamo da qui vediamo anche maria immacolata pruiti scendiamo un secondo a vedere il mare qui sotto ragazzi e poi risaliamo in direzione del del duomo scendiamo da qui fra poco arrivo io con ryan e il vamos padre in estate ne arrivano in continuazione sì sì ovviamente in questo periodo con le varie problematiche legate al covid magari qualcuno preferisce non partire quindi magari riducono anche un po i voli salutiamo anche maria angela ci porta il sole gianne ragazzi sì potrebbe arrivare oggi ma potrebbe arrivare anche qualche giorno fra qualche giorno quindi non è detto che arriva oggi noi comunque siamo a terrasini dobbiamo prendere informazioni per quanto riguarda le riprese che faranno qui ovviamente siamo qui anche vicino all'aeroporto che se dovesse arrivare siamo in prima linea entro in assidurla aereo vamos compa allora ragazzi grotta perciato da questa parte adesso vi faccio vedere la maiduzza che è uno spettacolo intanto ringraziamo meri peppe rosalia zunica che invia 100 stelle grazie meri potremmo anche loretana nonis buongiorno grazie alessia sceppa enza mannino da new york cienza si arriva da roma raga allora ragazzi qui ovviamente siamo persi in mezzo al mare guardate punto magico vi faccio vedere da questa parte guardate che mare che c'è ragazzi tenetevi forte questa è una cartolina dalla sicilia ne scattiamo tanto ogni giorno ragazzi questa è più bella di tutti poi ovviamente andremo anche in direzione del duomo che è bellissimo e della spettacolare dello spettacolare centro centro storico chris arriva con la nave vamos amoni 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 chris guardate che male ragazzi qui sotto maiduzza live guardate che spettacolo questa sembra una piscina grazie grazie cristina per la condivisione saluto anche a maria plataroti natalia fuster pimas filomena tedesco ringraziamo anche giacomo tutone e tutti gli amici che si stanno collegando grazie ciao francesco da sfera cavallo giovi anche una bella foto qua facciamola saluti ragazzi buon lavoro anzi questa è una piscina naturale la maiduzza guardate grande magda vi aspettiamo ragazzi vi raccomando se vi arriva notifica di inviare 100 stelle gratuite cliccate ci è citato una mano intanto ringraziamo sandra e ringraziamo anche mary zunica e ringraziamo anche nostra giusy de gregorio grazie amica mia sempre del supporto salutiamo anche anna alfano e maria cartella niente ragazzi restare qui per ora ovviamente neanche a dirlo fare anche un bagno magia dice una delle antiche torri d'avvistamento vedete grazie giuseppina salutiamo a peppino comito ciao peppe un saluto ci vediamo presto salutiamo anche enza palazzolo da terrasini ciao enza grazie agli amici di villabate salutiamo anche eufemia consiglio e mericetti giglia ok ragazzi adesso saliamo di nuovo ragazzi questa è la zona maiduzza ragazzi vi ho fatto vedere anche come si ci arriva quindi ci arrivate molto facilmente praticamente posteggiando in zona duomo o comunque anche dal centro storico siamo a due passi adesso risaliamo ragazzi passiamo di nuovo dalla praiola ve la faccio rivedere per gli amici che si sono appena collegati dopodiché andiamo in direzione del duomo e del centro storico scennite tutti ragazzi facendovi vedere queste immagini ragazzi parti di stelle in corso ragazzi se vi arriva notifica di inviare le stelle inviatele adesso oggi avevo un ricordo proprio in questo posto grande danni spettacolo ragazzi risaliamo ragazzi risaliamo però salutiamo anche a pedrito parrino bravo pedrito l'avevo salutato già prima però forse non era collegato non lo so risaliamo da quel lato ragazzi andiamo in direzione duomo adesso andiamo a vedere anche la fontana magica anche stamattina siamo belli carichi chiesa l'abbiamo preso la boom boom con mim quindi siamo atomici parri saliamo saliamo torre alba si chiama quella brava giusi che me l'hai ricordato spettacolare ragazzi qua sotto guardate sembra veramente una piscina salutiamo a pedrito intanto giovi sta facendo un sacco di belle foto poi li rivedrete più tardi anche nella nostra pagina anche su instagram vi raccomando di seguirci anche su instagram ragazzi il gruppo è sempre lo stesso panorama italy saliamo saliamo facciamo una bella salita facciamo un passaggio anche da villa a mare salutiamo anche silvia carofalo c'ho silvia e la mia amica rosy bontà c'ho rosy andiamo insomma ragazzi fa anche parecchio caldo siamo intorno ai 14 15 gradi passeggiando e risalendo ovviamente c'è più caldo ancora quindi andiamo grazie antonio ragazzi compartire compartire condividete ragazzi si silvano siamo vicino a palermo ragazzi siamo a 30 chilometri 30 chilometri da palermo a due passi dall'aeroporto ah ok pedro vamos pedro quando atterri all'aeroporto di palermo pedro ti raccomando fai un salto a terrasini siamo a 5 chilometri 10 chilometri massimo andiamo da quella parte ciao anna grazie salutiamo tutti gli amici dell'australia adesso risaliamo da quella parte salutiamo anche i fili cazzaniga andrew rolling passa da villa fassino vecchia roccaforte hippie andrew non so dov'è ragazzi non lo conosco questo posto si ragazzi siamo in provincia di palermo 30 chilometri salutiamo lorenzo di blasi e lucia ragazzi posto fantastico adesso vi faccio rivedere la praiola altre cartoline da terrasini guardate da qui si vede tutto il paese ragazzi guardate che bello con tre case tipiche basse dei luoghi marinari salutiamo la mia amica stefania marinelli ciao roxana la vinia marine e francesco cuvello a terrasini non ci ha mandato mi romperò per prendere l'aereo eh ragazzi ovviamente da qui si vedono tutti gli aeri che passano tutti tutti quelli che arrivano a palermo si vedono eh lo so ci sono già passato ragazzi nella zona di cortaperciato adesso stiamo tornando da quella parte ragazzi per tutti gli amici che si sono appena collegati e vogliono vedere la zona della maiduzza vi racconto di rivedere la diretta dall'inizio adesso facciamo un passaggio da quella parte salutiamo padre Hernani e salvatore garita e mario tilia contra facciamo un passaggio dicevo in zona praiola e poi saliamo in direzione duomo ciao lorenzo di blasi un saluto almeno stavolta la truppa trovata troverà bel tempo sì ragazzi il tempo veramente è perfetto scendiamo scendiamo ragazzi scendiamo scendete puro voti salutiamo a Mario Zaccaria ciao Mario grazie Silvana grazie davvero ringraziamo tutti gli amici che ci seguono sempre e tutti gli amici che ci lasciano un like alla pagina ragazzi vi raccomando di lasciare un like anche al video salutiamo in Chiavania Muitolindo Valeria Chiarello e Nella Morello proseguiamo intanto con la passeggiata guardate tutto molto ordinato il paese devo dire ben tenuto ringraziamo l'amministrazione Maniaci salutiamo Armando La Venuta e Gaetano Mangione ciao Gaetano ciao Maddi vamos ragazzi ciao Mariuzzo buongiorno oggi Terrasini ragazzi perla del golfo salutiamo anche Salvatore Garito e Giove Chirone vamos Mimmo caricati per stasera Mimmo ti voglio bello carico stasera stasera asfaltiamo il centro storico ragazzi con Mimmo salutiamo a Giuseppe Messina a Giuseppe Calier intanto salutiamo salutiamo a tutti gli amici che si stanno collegando qua ci sono i faraioni ragazzi e insomma non vedo l'ora di vedere anche queste scene appunto nella fiction viola come il mare con Gioia Man sì mare calmissimo Pedro assolutamente Giove intanto sta facendo degli scatti da quella parte salutiamo anche Patrizia Notarrigo ciao Patrizia buongiorno da Verona la mia Terrasina è favolosa grazie Giovanna un saluto ci affacciamo di nuovo da qui un secondo da questa bella panoramica salutiamo anche Paolo Licandri e Anna Maria Pierri eh ragazzi abbiamo dei paesi fantastici Terrasina è uno di questi sicuramente tra i più tra i più ricercati anche dei turisti salutiamo Tiziana Spina e Piero avere mare e montagna è una sensazione unica ragazzi è uno spettacolo davvero il resto senza parola anch'io che ci vengo spesso penso voi che non lo vedete da tempo comunque alcuni lo stanno conoscendo adesso sappiamo anche in Saprestiani com'è finito con Gioia Man ragazzi dovrebbe arrivare tra oggi e domani o dopo domani Massimo eh dopodiché faranno delle riprese a Palermo adesso siamo qui per vedere un pochettino eh se c'è qualche informazione ovviamente noi siamo qui a due passi dall'aeroporto se dovesse arrivare adesso andiamo al volo entro intanto c'è delle notizie ragazzi adesso poi ovviamente lo sentiremo vamos vamos forse c'è qualche notizia per quanto riguarda la troupe di viola come il male no piastello qua l'asfalto eh noi piastrelliamo è vero Ignazio è tutto bene sono anche Patriziano Tarrico e Gretano Mangione intanto la mia amica Sandra dice scrivetevi su YouTube Anthony scrive a Giovi Anthony scrive a Giovi se c'è qualche ti sta scrivendo Anthony un messaggio ti sta scrivendo Anthony un messaggio c'è qualche novità forse per quanto riguarda Gioia Man saremo Svetlana Paunovic e Stefano ragazzi restate collegati che forse c'è qualche novità Anthony Scini dice intanto dice intanto Mimbo grazie Sergio adesso risaliamo in direzione Duomo il frattempo condividete ragazzi vi raccomando guardate anche qui sotto Faraglioni salutiamo anche Cettina te l'ha mandato scrivigli scrivigli dici di che dove su Messenger salutiamo anche Palazzolo Mario dal Belgio ciao Mario Palazzo D'Omale ragazzi ti saluto anche Giuseppe Scebba da Osta ciao Beppe oggi Terrasini vieni a Cinesi domenico ci sono passato prima salutiamo tutti gli amici di Cinesi e di Magaggiari anche lì spiaggia fantastica stasera se non ci sono io niente diretta vi aspettiamo in centro ragazzi stasera con Mimbo intorno alle ore 21 saremo in diretta da lì ci saluta anche Angelo Sposito saluti direttamente all'aeroporto Milano Malpenza ciao Angela ti aspettiamo dai che viene a atterrare qui ragazzi atterrate qui no arriva prima Assuntino arriva prima i 14 faranno già delle riprese Terrasino è passata la mia infanzia d'estate salutiamo anche Anna Maria Pierri guardate che spettacolo Raiola Live eh sì Antonio Mare è fantastico poi oggi in maniera particolare Giovanna questo qua è il ristorante Faraglioni ragazzi abbiamo visto prima ci siamo già passati salutiamo anche a tua zia salutiamo anche a Linda Gianfalla e a Anna Maria Scarfone Faraglioni Live andiamo da questa parte Giovanni mi fattiamo a qualche scatto salutiamo anche Nicolò Cionico un saluto andiamo da quella parte ragazzi risaliamo qui Palazzo D'Aumale l'ho fatto vedere prima ragazzi dove fanno appunto eventi e spettacoli salutiamo anche Salvatore la mattina ciao Salvo niente ragazzi il caldo si sta morendo stamattina 14-15 gradi salutiamo anche Angelo Cicero Enza Valenti andiamo 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 risaliamo adesso in direzione Duomo ti saluta Giovanni e Jeffrey ti saluta Jeffrey ricambia ricambia salutiamo anche Anna Maria Pieri ragazzi adesso risaliamo da Villa Amare andiamo in direzione del centro storico Prayola Live ragazzi con uscluscio ciao Salvo guarda che spettacolo Prayola salutiamo anche Enza Valenti Cioenza Giovanni Colangelo guardate che è male ragazzi fantastico salutiamo anche Ghetano Di Maggio Cio Ghetano la bellissima la bellissima immensa di Terrasini saluto anche a Gisella Piano eh sì eh sì Pedro profumo di primavera ragazzi insomma insomma ragazzi restere qui per ore veramente guardate che spettacolo è passato un po' più lì Giovi Mimmo Petro saluto salutiamo anche Stefano Casoni Antonio Casorio ragazzi siamo a Terrasini provincia di Palermo salutiamo anche Elisabetta grazie Elisabetta salutiamo tutti gli amici di Carini è il gruppo della mia amica Elisabetta prestigio come si saluta da Parma ma anche lei Carinese salutiamo anche a Ciao Saro Ciao Saro e Stefano adesso risaliamo da quella parte salutiamo anche Assunta Fontana belli rieri che a terra pure io ci sono passato grande Nancy allora ragazzi risaliamo da questa parte qui in estate mettono un sacco di belle bandiere in tutti i paesi del mondo in questo momento non ci sono insomma uno spettacolo spero che si vede bene Anthony prevedo il messaggio ok salutiamo anche Paola Virzita vicebella Terrasini da Udina ciao allora ragazzi risaliamo da qui giovi risaliamo da qui risaliamo da questa parte ragazzi qui la scritta love risaliamo da qui andiamo in direzione del duomo di Terrasini salutiamo anche a Maria Rosaria Morrone andiamo 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 saliamo ragazzi nel frattempo condividete risaliamo da Villa a Mare dai magnifico grazie grazie Patrizia grazie anche qui in estate fanno degli eventi all'aperto vedo c'è questo anfiteatro sotto la mia amica Delfina c'è Delfina aspetta ragazzi devo farvi vedere il mare a Delfina aspetta Delfina ti faccio vedere il mare ci ritengo a far rivedere il mare a Delfina Giussi buonasera Salvo Guarino Maria Rosaria Morrone lo devono cambiare perché? ah si un po' si ovviamente c'è un po' di vento salutiamo in chiacchate amabile allora ragazzi aspetta gli devo far rivedere il mare la mia amica Delfina che manca da un po' da Terrasini e poi torniamo in direzione Duomo vai salutiamo anche a Beppe Beppe Icempo di Shoshaka cantonera genovese salutiamo anche Anna Trefiletti ciao Anna guarda 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 Delfina intanto a terra un'altra aereo ragazzi potrebbe esserci già Yaman guardate allora Traiola salutiamo anche Dario Balisteri guardate che aereo ragazzi sta attendo un'aereo a punta Raisi un'altra aereo salutiamo anche a Flavio Pedone ciao Flavio un altro Ryanair Parri può essere che sei tu Parri può essere che c'è Jeffrey ragazzi salutiamo anche a Flavio Pedone Antonella Genovese guardate 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 atterrato potrebbe esserci già Yaman la nostra Terrasini grande Dario ragazzi vi raccomando condividete adesso ragazzi risaliamo in direzione guardate quella parte di faraione l'avevamo già visti grazie amica mia allora ragazzi risaliamo adesso da questa parte dai risaliamo da qui il frattempo condividete salutiamo anche Agli Angels da Cuba e Alex Carlino ciao Alex saliamo 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 passaggio a Villa Amare poi andiamo in direzione del bellissimo Duomo tanto amica mia Delfina in via 200 stelle Parrino Scene vamos grazie Delfina grazie sempre del supporto non so guarda il radio dice Cagliamando domani ah già si sa si ok saluta anche a Maria Rosaria Morrone patti eh si ragazzi la vostra Terrasini saliamo da qui ragazzi Villa Amare salutiamo anche a Letty Di Maria Francesco Randazzo da Carini ciao Francesco mamma ragazzi mamma dico si sta morendo di caldo 14-15 gradi caldissimi giù si scendi scendi saliamo è tutto un saliescenti praticamente si scendi e sacchiana ragazzi intanto ringraziamo a Parrino che ha 50 stelle grazie come mai siete qui da noi ragazzi stiamo facendo una diretta alla bellissima Terrasini ragazzi vediamo spesso intanto ringraziamo anche a Thomas da New York ciao Thomas grazie del supporto andiamo in direzione Duomo vi faccio vedere il Duomo ciao Anna salutiamo Anna Mare dal Belgio dalle Belgic Scino vamos salutiamo anche Pietro Peri come si dice ragazzi per alcuni Terrasini è a casa andiamo da quella parte saliamo Giovi c'è caldo no no sta bene si sta bene salutiamo anche Eli Angels e Rosy si si Rosy arriverà tra oggi e domani siamo anche in zona aeroporto tra l'altro quindi Terrasini vicino all'aeroporto se possiamo ovviamente se arriva in questo momento ci andiamo ci sono intanto anche Dario da Belistri dalla Valle d'Aostra e di Mamed l'Ovo l'hanno messo da poco no ragazzi è già un po' da anni credo Giussi da quanto anni c'è la scritta Love io almeno 5 me lo ricordo a memoria credo adesso passiamo ragazzi un passaggio in via in piazza Falcone Borsellino dove c'è anche la sede del comune e poi saliamo in direzione Duomo eh sì Delfina c'è un caldo veramente ragazzi pazzesco salutiamo anche Mary Correnti ciao Mary allora Giovi da qui vamos giriamo da qui ragazzi piazza Falcone Borsellino a due passi dal comune guardate siamo in piazza guardate anche Giacomo Genovese ciao Giacomo sì ragazzi ci sono anche dei pullman che fanno Terrasini Palermo Falcone Borsellino i nostri due giudici eroi uccisi dalla mafia piazza Falcone Borsellino ragazzi questa è la sede del comune di Terrasini andiamo in direzione Duomo andiamo in direzione della piazza ragazzi piazza Duomo e poi andiamo a vedere il Duomo a due passi da questa parte c'è anche il panificio del mio amico Antonino Maniaci panificio numero uno di Terrasini vi raccomando andate a trovare salutiamo anche Cristina Giannola dice mio marito è di lì salutiamo Enza Malfitano c'è Enza ci salutano anche da Milano Giorgia Correnti un tempo grigio lì saliamo da questa parte ragazzi vamos entriamo qui ragazzi in centro storico tutto pedonale fino ad arrivare al Duomo poi ci spostiamo anche a Fontana Magica direzione piazza Duomo ragazzi salutiamo anche Mario salutiamo Patrizia Silvana nostra Giussi Ignazio percorriamo il centro storico da noi abbiamo 12 gradi ragazzi qui forse ce n'è qualcuno in più poi passeggiando ragazzi veramente sotto il sole è qualcosa di fantastico via Vincenzo Madonia ragazzi guardate che bello e ben curato il centro storico come il resto del paese tra l'altro ci saluta intanto anche Isa Cordero buonas dia Isa guardate è bello il centro storico ragazzi tutto bello ordinato pulito una chicca ragazzi Terrasini vi raccomando venitela a visitare state anche Maria Asciutta e Katia Amabile finalmente Terrasini sempre mio qua grazie state anche fino a Manu di Maida non so se conoscevi questo polso forse già c'eravamo stati in diretta però non so se ci sei mai stato ci riveniamo quando arrivi qui nella piazzetta sinistra Maniaci sì sì esatto in questa parte anche sì sì Silvana ci sono anche dei pullman che vi portano per a Palermo salutiamo anche Enzalentini e Gervasi Adragna qui il vento vedete tanti localini bei localini vedete in estate tutto bello pulito molto ordinato il paese poi comunque ci sono localini appunto sia bar pizzeria ristoranti c'è di tutto e di più ragazzi vendono ovviamente anche del buon pesce fresco insomma località ragazzi turistica veramente meravigliosa che magari molti non conoscono però insomma vi invito veramente a rifarci un salto ragazzi intanto voglio ringraziare gli amici che ci hanno sostenuto fino adesso quindi ringraziamo la nostra Sandra Williams Mary Peppe Zunica la nostra Giussi De Gregorio la nostra amica Delfina Caronna il nostro Parrino Jeffrey e ovviamente Thomas Gonzales ciao Thomas grazie ancora grazie a tutti thank you allora ragazzi piazza Duomo questo qui di fronte è il Duomo di Terrasini stamattina è già chiuso perché forse abbiamo fatto un po' tardi però ci torneremo l'abbiamo già visto all'interno in qualche altra diretta quindi potete andarla a rivedere salutiamo anche grazie a Racuia grazie grazie scusa il gioco di parole ragazzi vi raccomando condividete soprattutto se siete di Terrasini avete degli amici all'estero dei parenti magari vogliono rivedere casa noi siamo davvero felicissimi di essere qui e di mostrare il vostro paese in mondo visione salutiamo Maria Plataroti Sandra thank you Sandra grandenza io non ho mai visitato a Terrasini mi piace è pazzesca parrino andamalia vediamo ragazzi aspettiamo notizie adesso tra poco dovrei incontrermi anche con qualche amico e mi dovrebbe dare qualche informazione in più per quanto riguarda Giaia Vanna a Terrasini quindi siamo qui anche per questo vi faremo sapere poi stasera qualcosina in più salutiamo anche Loretana Lopez e lo so ragazzi siamo qui anche noi siamo a Piazza Duomo ve lo faccio rivedere anche da questa parte guarda che spettacolo grande Beppe Giovini nel frattempo sto facendo un sacco di belle foto adesso vi faccio vedere ragazzi la fontana magica andiamo a chiudere da lì io ringrazio davvero tutti gli amici che stanno intervenendo ho avuto un saluto particolare ai miei amici di Terrasini la nostra Giusy De Gregorio la nostra Delfini ovviamente il nostro amico Antonino Maniaci salutiamo anche Anna Maria Ciccone ciao Anna Maria domo vedete ragazzi chiuso purtroppo stamattina ma ci torneremo ovviamente mentre è aperto i due campanelli gemelli fantastici all'interno è anche bellissimo peccato che stamattina è chiuso salutiamo anche Sabine Mannino i bar fuori all'aperto con il covid sono mentati no no ragazzi qui sempre così beh non è per il covid quindi ragazzi più o meno diciamo la maggior parte del turismo ovviamente nel periodo estivo quindi ovviamente molti sfruttano gli spazi all'aperto saluto al mio amico Ninuzzo Mannino ciao Ninuzzo oggi siamo a Terrasini Nino Fontana Magica ragazzi guardate questa bellissima piazzetta a fianco del Duomo qui magari nella giocata quella è più calda vi potete mettere qui a prendere un po' d'aria fresca diciamo riparati da questi bellissimi alberi salutiamo anche rosa Privitera e Anna Maria Ciccone salutiamo anche Enza Franco andiamo alla Fontana Magica vi raccomando ragazzi con le condivisioni ci tengo tantissimo stamattina qui a Terrasini Parino ti ospita Giussi salutiamo anche a Beppe guardate salutiamo anche a Martino Giambona dalla Francia la chiesa madre stupenda eh sì ragazzi il numero di Terrasini ragazzi bellissimo ragazzi Fontana Magica Ninuzzo ciao Maria Rosa Maria Rosa ragazzi vi riaspettiamo a Terrasini ragazzi vi raccomando quest'estate scegliete Terrasini ma anche prima ragazzi anche in primavera chiudiamo da qui ragazzi dalle spalle del Duomo con la bellissima Fontana Magica un ringraziamento alla nostra Giuse De Gregorio ovviamente a Anthony a Mimmo ovviamente a Perrino a Ignazio e a Pedro un saluto e ringraziamento anche a tutti gli amici che hanno condiviso lasciato un like e anche a tutti gli amici di Terrasini che ci stanno seguendo grazie davvero di cuore ragazzi chiudiamo da qui dalla bellissima Terrasini è tutto se ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda Giayaman ovviamente riprendiamo la linea ragazzi quindi ci vediamo alla prossima chiudiamo da Fontana Magica un bacio e un abbraccio a tutti voi ragazzi grazie di cuore vi raccomando lasciate un like al video e condividete